Musica Musica Era il turno dei casalesi ad incoraggiare Cospita ad andare avanti pochi giorni fa E diceva il boss dei casalesi pezzetto dopo pezzetto si arriverà il risultato che sarebbe l'abolizione del 41 bis Non è l'unico incontro che ha avuto Cospito Il 12 gennaio 2023 mentre parlava con i mafiosi Sì ma dobbiamo concludere Concludo, incontrava anche parlamentari Serracchiani, Verini, Lai e Orlando che andavano a incoraggiarlo nella battaglia Grazie onorevole Allora io voglio sapere presidente Grazie Se questa sinistra sta dalla parte dello stato di terroristi con la mafia La ringrazio Siccome lo vuole sapere oggi in quest'aula noi siamo qui e resteremo qui a spiegarglielo Da che parte stiamo Chiaro? Allora Si dovrebbe vergognare Noi ci chiediamo se questa è la posizione della presidente Meloni Perché se questa è la posizione della presidente Meloni è una posizione gravissima Scludo in via assoluta che vi siano dei rapporti tra esponenti, non dico solo del PD ma qualsiasi esponente parlamentare Tra l'altro è scritto proprio nella legge che i parlamentari hanno sempre il diritto di visitare i detenuti Queste conversazioni non solo non sono impedite ma sono addirittura utilizzate per svolgere delle azioni di sicurezza Perché si fanno parlare i 41 bis perché quelle informazioni spesso sono utili per contrastare le organizzazioni che sono fuori La dialettica politica è andata senza dubbio oltre il rispetto di tale principio E' stato richiesto al presidente della camera di nominare un'apposita commissione Che sarà incaricata di verificare quanto accaduto e la fondatezza delle affermazioni rese nel corso della seduta Ritengo che l'attivazione di tale strumento potrà senz'altro condurre a un'opportuna soluzione della vicenda Ma io non ho avuto un atteggiamento sbagliato in aula, non devo chiedere scusa niente È una sua interpretazione, il Partito Democratico ha chiesto, si chiama il giuridio d'onore Andrò ben volentieri al giuridio d'onore per chiedere al PD le spiegazioni anche delle parole che hanno detto loro in aula Buongiorno cari telespettatori, allora ieri nell'aula della camera è scoppiata una vera e propria bomba politica Ad innescarla come avete visto, come senz'altro saprete, Giovanni Donzelli che è vicepresidente del COPASI Il comitato sui servizi segreti ed è un fedelissimo di Giorgia Meloni Diciamo la vicenda è nota, prima ha raccontato di conversazioni tra l'anarchico Cospito e altri detenuti al 41 bis Esponenti della criminalità organizzata, diciamo per incoraggiare la lotta al carcere duro, contro il carcere duro Poi è andato all'attacco del Partito Democratico, quattro esponenti dei dem erano andati a trovare in carcere E Cospito, diciamo provocando, ha detto ma voi state, voi del PD, state con lo Stato o state con i terroristi o con la mafia E' stato annunciato, avete sentito le parole del Presidente Fontana, un giurì d'onore Per verificare appunto la correttezza anche delle informazioni date da Donzelli E su questo verte gran parte anche della contrapposizione del dibattito di oggi Intanto ha svelato notizie coperte dal segreto Donzelli, al di là diciamo della durissima contrapposizione politica Intanto Cospito, che come sapete è stato trasferito nel carcere di opera Ha intenzione, l'ha detto chiaramente, di continuare lo sciopero della fame che dura da oltre 100 giorni E nel pomeriggio, oggi pomeriggio, il Ministro Nordio terrà un'informativa su tutta questa vicenda alla Camera L'altro tema di cui si dibatte molto e che fa fibrillare non soltanto la maggioranza E' l'autonomia regionale, l'autonomia differenziata Domani in Consiglio dei Ministri arriva il disegno di legge firmato da Calderoli La bozza ieri è stata già esaminata, ci sono state alcune modifiche per dare anche maggior ruolo al Parlamento C'è l'occhio vigile del Presidente della Repubblica, Mattarella, che sta seguendo la gestazione di questo provvedimento E continuano le critiche, le proteste, l'opposizione di molti sindaci ma anche governatori delle regioni del Sud Ma oggi ci occuperemo anche dei laureati italiani, che è un'altra grande partita di questo Paese Buongiorno Roberto Arditti, direttore di Donaia e Formiche Roberto, che idea ti sei fatta di questa vicenda Donzelli-Cospito? Intanto ti chiedo anche, rispetto all'attività di Giorgio Ameloni Le tante questioni delicatissime che il governo deve affrontare, come si pone questa questione? Dunque, la vicenda è molto seria E io credo che tutti farebbero bene a darsi una calmata su questa storia A darsi una calmata, sì Perché intanto il vincitore assoluto, con distacco siderale dal secondo in classifica Nella vicenda di cui stiamo parlando, è Cospito Che, diciamo così, la quasi totalità degli italiani non sapevano neanche chi fosse A cui la giustizia italiana ha consegnato due condanne per reati gravi E che in questo momento campeggia come una specie di eroe senza macchia e senza paura In lotta contro un sistema che lo affligge nelle nostre carceri Che invece sono un luogo, certamente doloroso per molti aspetti Ma un luogo democratico e dove uno Stato di diritto fa il mestiere che deve fare nel carcere Io credo che debbano darsi una calmata a tutti e faccio due esempi rapidissimi Il Partito Democratico ha voluto questa visita a Cospito C'era proprio bisogno di andare con una delegazione di quattro parlamentari Compreso l'ex ministro della giustizia Che a sua firma ha disposto molti 41 bis come prevede la legge Non poteva il Partito Democratico se aveva a cuore l'accertamento delle condizioni Che peraltro nelle carceri italiane sono garantite a tutti i detenuti Non solo a Cospito Se il Partito Democratico aveva a cuore la verifica Come ai parlamentari spetta Di che le cose si svolgano nel modo corretto Scegliere un parlamentare eletto nella regione in cui Cospito si trovava in quel momento E fare una visita più discreta Evidentemente la scelta di andarci con l'ex ministro della giustizia Con la Deborah Serracchiani, capogruppo È l'indicazione di voler investire politicamente moltissimo su questa vicenda Secondo punto che invece riguarda la maggioranza C'è proprio bisogno nella articolazione dialettica Tra il sottosegretario della giustizia e un membro del Copasir Di andare in aula riportando notizie che Facciamo un piccolo passaggio qui Perché voglio dire poco perché lo dicevi anche tu La vicenda Cospito è assurda alle cronache nell'ultimo periodo Perché? Perché anche in un'intervista oggi Giovanni Donzelli dice Io queste informazioni le ho avute da Del Mastro Che è il sottosegretario Che è un fedelissimo anche lui di Giorgia Meloni Sottosegretario della giustizia Il vice diciamo di Nordio Che aveva accesso a questi atti Ora a me interessa pochissimo degli aspetti Lecito e illecito che come al solito in Italia Scatta subito questo dibattito che non mi ha mai appassionato Dico solo che quando si sta al governo Si deve fare attenzione su questi meccanismi Perché diciamo così se cominciamo così una legislatura Nella quale il centrodestra ha nel suo programma Con il quale si è presentato agli elettori Di fare una grande riforma della giustizia E guardiamo alle ultime due tre settimane Con questo clima la vedo un po' difficile Vedo un po' difficile l'avvio di una stagione di riforme In materia di giustizia che riguardino le carriere dei magistrati Il tema di grande cruciale e sensibile Al governo io ho finito Bisogna contare fino a 20 prima di parlare E ragionare molto nelle scelte dialettiche e polemiche che vengono compiuti E' un salto che chi è stato per tanti anni all'opposizione Forse ancora non ha del tutto compiuto Adesso vado da Flavio Tosi Perché è esponente della maggioranza di governo Secondo te la Premier sapeva o è scoppiata questa bomba? Secondo me la Premier è piuttosto scocciata Dal fatto che nelle articolazioni del suo governo Ogni due o tre giorni viene fuori un problema Tosi, voi siete stati forse i più tiepidi Nella difesa di Donzelli o no? Io ho letto le parole anche di Giorgio Moulet Che presiedeva peraltro la Camera Ieri mentre è successo questo ambaglio Giorgio Moulet ha richiamato Donzelli Per il fatto che Donzelli ha trasceso il dibattito parlamentare E ha offeso, perché questo è E' offeso il Partito Democratico e la sinistra Perché quando tu chiedi a una parte politica significativa di questo Paese Abbiamo opinioni politiche distantissime Ma non gli puoi chiedere voi state con lo Stato o state con i terroristi Perché è evidente, l'ha detto lo stesso Nordio Che è della stessa parte politica di Donzelli Che non c'è nessun parlamentare, nessun partito Che sta con i terroristi e contro lo Stato E quindi Donzelli ha trasceso E' un peccato, è un peccato perché Spenna è stato detto, cioè si è portato questo cospito A sorgere all'eroe E' uno che gambizza, che mette bombe Che cerca di fare stragi Fa sciopero della fame Faccia lo sciopero della fame E' una cosa legittima Viene curato come tutti vengono curati Perché ne hanno diritto Però questo non porterà certo a rivocare il 41 bis Fare tutta questa manfrina intorno a cospito Rischia anche l'emulazione perché poi di teste calde Ecco, con il rischio che salga la tensione In giro ce ne sono sempre Esatto, teste calde ce ne sono sempre Quindi continuare a parlare di sto cospito Non fa bene a nessuno Allora, va di pubblicità Poi riparto ovviamente da Barbara Floridia Perché volevo capire Ho letto diverse ricostruzioni Su la posizione del Movimento 5 Stelle Rispetto a questa vicenda Adesso ce la racconterà lei in prima persona E poi vediamo anche subito dopo Un nuovo intervento sui social di Giorgia Meloni A proposito dei primi 100 giorni di governo Insomma, dice Giorgia Meloni Si può fare di più ma finora solo soddisfatta Tra poco Allora, vado dalla senatrice Floridia Così cerchiamo di mettere a fuoco Qual è la vostra posizione rispetto a questa vicenda La posizione del Movimento 5 Stelle è chiara Rispetto sicuramente al 41 bis Che come istituto non si tocca Questo è stato ribadito anche in aula Per quanto riguarda la posizione di cospito Chiaramente ci rimettiamo alla magistratura Perché è giusto che Non è certo la politica che definisce Chi deve stare sotto un regime Piuttosto che un altro Chiaramente la salute del detenuto Va tutelata e così sta accadendo Invece mi permetta di dire Che gravissimo è ciò che è accaduto in aula Ieri Donzelli si è manifestato Non all'altezza Di rappresentare I cittadini italiani È molto grave ciò che ha detto Per diverse ragioni Innanzitutto perché è palese Che ha detto qualcosa Che andava tenuto segreto E vogliamo capire e sapere Perché lui era a conoscenza Di quelle informazioni Ricordiamo che è vicepresidente del Copasir E credo che abbia una posizione delicata Lui ha ribadito già da ieri Che non sono informazioni Che riguardano il Copasir Quelle che lui ha avuto Ma che ha fatto delle domande Al collega del masco delle vedove Peggio mi sento ancora più grave Che un sottosegretario Insomma comunichi Che poi queste informazioni Vengano così diffuse In aula Soprattutto utilizzate Per attaccare Un'altra forza politica E mi permetta In un momento Quindi anche in maniera Inopportuna In un momento In cui andavamo a istituire La commissione antimafia Con mesi di ritardo Perché finalmente Questa vicenda è passata Assolutamente in secondo piano Ed è stata istituita La nuova commissione antimafia Finalmente sì Lei pensi che abbiamo Praticamente dovuto fare Le liste delle regionali Senza avere La commissione antimafia Quindi con un ritardo Pazzesco E quindi cosa si denota Una classe dirigente Palesemente inadeguata Di questo governo E inoltre Una maggioranza spaccata Perché è evidente Come le altre forze politiche Ma Fontana stesso Si sono sentiti Imbarazzati Da queste esternazioni Di donzelli Tanto che Hanno preso anche Le distanze Diverse forze politiche Come Forza Italia Quindi noi siamo Veramente preoccupati Perché il paese In mano a persone Inadeguate E che possono mettere A rischio Anche la sicurezza Del paese Allora due notizie Stamattina Intanto Donzelli In un'intervista Ha detto Non ho nessuna intenzione Di dimettermi Da vicepresidente Del Copasi Questa è la prima notizia Poi a proposito Di opposizione C'è un tweet Di poco fa Di Carlo Calenda Il leader di azione In cui Calenda scrive Del Mastro Non può rimanere Al DAP Che il dipartimento Dell'amministrazione penitenziaria Spieghiamo Lui alle deleghe Da parte del ministro Alla polizia penitenziaria Tra l'altro E questo scrive Carlo Calenda Intanto voglio salutare La professoressa Barbara Quacquarelli Che è qui Con noi Tra poco interverrà Che insegna Organizzazione aziendale All'Università Milano Bicocca E peraltro Insegna anche Alla scuola nazionale Della pubblica amministrazione Faccio questa prima parentesi Presentandola Perché lì si formano I dirigenti Della pubblica amministrazione Che sono merce rara In questa fase Di PNRR O no? È un punto focale Perché abbiamo Le risorse economiche E in qualche modo Abbiamo bisogno Delle risorse umane In termini Sia di persone Di competenze Per riuscire a sviluppare I progetti Che sono all'altezza Delle aspettative Che siamo Ma c'è in questa fase Appeal Per la pubblica amministrazione Allora Non è particolarmente attraente La pubblica amministrazione In questo paese Non ha goduto Di una immagine Interessante Soprattutto per le persone Più giovani E questo è un problema Che stanno vivendo Di attrazione in generale Anche nel mondo privato Tutte le aziende Stanno facendo i conti Con la difficoltà Di reperire E di attrarre I giovani La pubblica amministrazione In questo momento Ancora di più Perché non viene vissuta Come un luogo Dinamico In cui si può crescere Apprendere E essere esposti Alla Alla società Per In realtà Anche un forte stereotipo Che c'è stato Nel tempo Negli anni Da una parte Ma anche Di non aver investito A sufficienza Nelle risorse umane E dal punto di vista Delle retribuzioni Perché quella È un'altra leva Ovviamente Le retribuzioni Della pubblica amministrazione Non sono delle retribuzioni Molto più alte Del resto Del mercato E soprattutto L'accesso È complesso Perché essere selezionati Per darne un'idea L'ultima selezione Ha anche un livello Di motivazione Particolarmente alto Rispetto a dare Anche Non solo Trovare un lavoro Ma un lavoro Che ti consente Di dare un servizio Anche al Paese Adesso torno Da lei Intanto Sentiamo È una brevissima sintesi Alcune delle cose Dette ieri Da Giorgia Meloni A proposito Dei cento giorni Del suo governo Sentiamo Ci siamo chiesti Se avessimo fatto Almeno una cosa utile Ogni giorno Le abbiamo raccolte tutte Ed erano di più Abbiamo deciso Di raccogliere le principali Perché Ogni italiano Possa fare il suo bilancio Della nostra attività Abbiamo raccolto Le principali Cento Cento azioni In cento giorni Dai provvedimenti Contro la mafia Come Il mantenimento Del carcere ostativo Fino al contrasto All'illegalità Fatto anche Con controlli A tappeto Nelle stazioni E avviando Le procedure Per oltre 10.000 Assunzioni Nelle forze Dell'ordine Abbiamo impresso Un cambio di passo Dello Stato Nel contrasto All'illegalità Dalla presentazione Del piano nazionale Di adattamento Ai cambiamenti climatici Fino Ai 400 milioni Che abbiamo stanziato A favore delle strade Nelle zone terremotate Passando Per le risorse aggiuntive In favore Delle zone Colpite da eventi Meteorologici Abbiamo immediatamente Messo in campo Risposte Per le vittime Di eventi Come valanghe O terremoti E poi Dall'incremento Del 50% Dell'assegno unico Per i figli Fino al dimezzamento Dell'IVA Sui prodotti Per la prima infanzia Passando Per il rafforzamento Dei congedi parentali Abbiamo dato vita Un importante piano Di sostegno A chi mette Al mondo Dei figli Potevamo fare di più Si può sempre fare di più Si deve sempre fare di più Si deve sempre fare meglio Ma io sono soddisfatta Del fatto che non sia passato Neanche un giorno Sabati Domeniche Feste comprese Senza che abbiamo tentato Di dare almeno Una risposta Sempre dalla parte dell'Italia Roberto Roberto Arditi Torno Ti faccio due domande La prima è su quello Che abbiamo appena sentito Ti convince Quello che dice Il bilancio Che fa Giorgia Meloni? Insomma Il governo ha fatto Quello che poteva E che doveva fare Essendo all'avvio Di una stagione politica nuova Con un presidente del Consiglio Che negli ultimi dieci anni Da quando è nato il suo partito È stato ininterrottamente All'opposizione Una coalizione di governo Che al suo interno Ha ribaltato i rapporti di forza E che in quanto tale Non governa dal 2011 Cioè da quando Cade l'ultimo governo Guidato da Silvio Berlusconi Insomma In questo scorcio finale Di 2022 Il governo ha fatto Una legge di bilancio Tranquilla Ha portato a casa Gli obiettivi semestrali Del piano nazionale Di ripresa e resilienza E ha ottenuto quindi La tranche Di versamento europeo Che al governo aspettava E ha iniziato Ad occuparsi Di alcune altre cose E però adesso C'ha delle sfide Da far tremare Le vene di polsi Quindi la mia opinione È che Quello che si poteva fare E quello che il governo Poteva fare Nell'autunno Più o meno Lo ha fatto Secondo me Ha fatto bene A togliere Le risorse Che erano dedicate Al prezzo della benzina Perché come si vede Alla poppa di benzina Il prezzo È tornato Quello che era Prima della guerra Di febbraio del 2020 De 22 Detto ciò I grandi dossier Sono quelli Che verranno In materia di giustizia In materia di fisco Dove Il centrodestra Ha una grande ambizione Che è quella Di fare una corposa Riforma del fisco In Italia Che manca da molti decenni Nel suo insieme Arrivando anche A un obiettivo storico Della destra italiana Che è quello Di abbassare La pressione fiscale Sfida da far tremare i polsi Certo E poi la giustizia E concludo dicendo I temi dell'autonomia Ecco Perché Che sono Una partita delicatissima Ecco Questi sono i dossier veri Per cui io direi Il governo ha fatto Nei primi mesi Quello che doveva essere fatto Adesso cominciano Le partite complicate Ecco Peraltro Io Lo fanno molti quotidiani In questi giorni Leggevo Delle competenze Che Sono tante Che alcune Alcune regioni Ne chiedono di più Altre meno Che insomma Riguardano Quest'autonomia Differenziata E poi Bisognerebbe dedicare Una puntata intera A tutto questo Anzi più puntate Poi vedremo Perché domani In consiglio dei ministri Si darà certamente Il via libera Alla bozza di disegno Di legge Poi ci sono dei passaggi C'è Le regioni che devono esprimersi La conferenza Stato-Regioni Credo che poi Si debba tornare In consiglio dei ministri Insomma E' un percorso Lungo Però Leggendo Quelle che sono Le materie Che le regioni Potrebbero chiedere C'è di tutto Dall'energia Alla scuola Oltre quelle Le competenze Che già Sono delle regioni Pensiamo Alla sanità Pensiamo Credo anche Tutta la partita Guardo la professoressa Quarelli Che riguarda la formazione Nel lavoro Qui per il lavoro Però Uno si chiede Se poi Non aumenterà La conflittualità Una volta Che questa legge Dovesse Che questa autonomia Dovesse concretizzarsi Tra le regioni E lo Stato centrale Sull'energia Addirittura Cioè Ci sono Richieste di ogni tipo Da parte delle regioni Io mi limito A una battuta Velocissima Che è questa Il modello Diciamo così Che abbiamo In essere adesso Secondo me Ha bisogno Di correttivi Faccio un esempio Che riguarda la sanità Sì È vero che noi diciamo Ed è un obiettivo Da mantenere Che a tutti i cittadini italiani Devono essere garantiti Gli stessi servizi Sull'intero territorio nazionale Dopodiché Se leviamo Diciamo La prima pagina retorica Di questo ragionamento Ci accorgiamo Che in Italia C'è una processione Di persone Che da sud Vanno a curarsi A nord Sì Questo significa Siccome non è che tutti Fanno Per il puro divertimento 6, 7, 800 chilometri Tra l'altro Con un problema di salute Perché far sicurare In una regione del nord È più divertente O più simpatico Che farlo in una regione del sud Però succede Questo significa Che la nostra capacità Di garantire a tutti Lo stesso livello Dei servizi È vera in teoria Meno vera in pratica E questo vuol dire Che il modello Che abbiamo tra le mani Ha bisogno di correttivi Io penso E mi taccio Che l'aumento Della responsabilità Degli amministratori A livello regionale A condizione Che siano titolari Anche di una parte Delle risorse E che quindi Ne rispondano ai cittadini Di come le stanno impiegando Aiuterebbe Un certo funzionamento Del sistema Poi Le garanzie nazionali Che diciamo così Siano salvaguardati Gli standard Per tutti Devono esserci Ed è compito Dello Stato Farli applicare Voglio sentire Su questo Tosi Flavio Tosi Perché come sapete All'interno della maggioranza Ci sono Insomma Delle Diverse posizioni A proposito Delle materie Delle competenze Di cui parlavo prima Ci sono regioni Che vorrebbero Maggiori competenze Istruzione Difesa dell'ambiente Beni culturali Ricerca scientifica Rapporti Con l'estero Organizzazione Della giustizia Di pace Previdenza complementare Integrativa Protezione civile Infrastrutture Casse Banche Regionali Adesso ho citato Alcune cose La domanda Che uno si fa È ma davanti A delle sfide Così complesse E così Diffici Mondiali Parlo globali Ma un paese Si presenta In questo modo O dovrebbe Invece avere Una forza Centrale Maggiore La chiede a lei Che è stato anche Sindaco di Verona Per dieci anni Insomma Che conosce bene Queste questioni Sono stato Sindaco di Verona E prima Sono stato assessore Alla sanità Del Veneto E quindi Su questo tema Posso aggiungere Che in realtà Non è che le regioni Del sud Ricevono per la sanità Meno risorse Di quelle del nord Il problema È che le hanno spesi peggio Ogni anno C'è il riparto Del fondo sanitario nazionale Che è un procapite Corretto per età Per patologie Per una serie di indicatori Però è un procapite Quindi in base Agli abitanti Sostanzialmente E ogni anno C'è un fondo aggiuntivo Per le regioni del sud Per riportarle in pari Il problema è Che a livello Di classe dirigente Il nord Ma anche la Toscana Anche la Puglia Anche la Basilicata Ci sono alcune regioni Che a livello Di classe dirigente Sanitaria Hanno gestito bene E fatto bene Il compito di una casa Ce ne sono alcune Dove invece Come la Sicilia Come la Calabria Anche il Lazio Devo dire Ci sono stati Degli sprechi pesantissimi E quindi pagano Questo deficit Rispetto alle altre In termini di qualità Delle prestazioni Un parametro banale Fino a qualche anno fa Il Veneto spendeva Per il personale In sanità Il 35% Più o meno Del budget La Calabria L'80 Cosa vuol dire? Vuol dire che il Veneto Faceva formazione Infrastrutture Tecnologia Invece qualcuno Ha scelto Per ragioni ambientali Di assumere Un sacco di gente Inutilmente E non appunto Investire sul resto E quindi bisogna Fare in modo Che le regioni Che oggi Sono gestite male Tent'è che sono Previsti Commissariamenti Sono previsti Degli strumenti Della normativa vigente Siano obbligate A portare Il loro livello Di assistenza Perché è sbagliato Appunto Che ci siano persone Tantissime In effetti Che dalle regioni Che citavo prima Sono costretti A venire a Verona A Milano A Bologna A Firenze A farsi centinaia Se non mille chilometri Per essere curati Lontani da casa Che è una cosa bruttissima Ci ho premesso Ci ho promesso Se noi guardiamo Gli Stati Uniti Gli Stati Uniti Sono un paese Efficientissimo Modernissimo E sempre in crescita Gli Stati Uniti Hanno Non l'autonomia Che prevede questa riforma Molto ma molto di più Vero In tutte le materie Molto ma molto di più Il punto è Che ci sono regioni Se pensiamo alla Lombardia La Lombardia Fa 10 milioni abitanti E Lombardia è uno Stato Non ha nessun problema A essere capace A livello di budget Perché questa è una cosa Che va chiarita Che va chiarita E lo dicono L'articolo 116 E il 119 Della Costituzione In realtà Non è che La regione Che ottiene l'autonomia Si porta a casa Più soldi Stabiliti I LEP Ovvero sia Non di più Del gettito fiscale No Allora funziona così Il meccanismo è Complicatissimo Perché bisogna fare Inventariare il personale Gli immobili I costi È complicato Ma sostanzialmente Come funziona Lo Stato ti cede L'università Cosa costa Allo Stato L'università In Lombardia Il personale Gli immobili Le spese Fa la somma di tutto E gli dice La Lombardia Adesso Tutta questa cosa qua Te la gestisci tu I soldi Che io Stato Ci mettevo Te li lascio E fine Cioè è una partita Di giro Lo Stato Non ci rimette nulla Rispetto a questo Ma c'è scritto In Costituzione Questo C'è scritto In Costituzione Questo Ma è giusto Perché altrimenti Vai a penalizzare Altre regioni Adesso si può avere Il miglior federalismo Possibile Un federalismo Più sgangherato Però la domanda Che io facevo Davanti a sfide Che l'Europa intera Non riesce Ad affrontare Complicate Le riusciremo A affrontare Con 20 regioni Che decidono In maniera diversa Ma l'autonomia Non è in contrasto Con uno Stato Centrale forte Ripeto Il federalismo Negli Stati Uniti Ha un'autonomia Gli Stati Uniti Hanno ogni Stato Che si fa il suo codice penale C'è chi mette E sono un paese Che ha una unità E una forza Allo Stato Centrale Formidabile E abbastanza così Anche la Germania Le due cose Esatto Le due cose Non sono in contrasto Assolutamente Tu devi avere Una forte autonomia E un fortissimo Stato Centrale E forse dovremmo essere Un po' americani Un po' tedeschi Non lo so Beh dobbiamo migliorare Dal punto di vista Della capacità gestionale Quello non c'è dubbio Allora facciamo Vado in pubblicità Riparto subito No perché non la voglio interrompere Leggo tardissimo Tra poco Allora come promesso Il dettaglio Le vostre contrarietà Su l'autonomia differenziata Allora innanzitutto In generale L'autonomia differenziata Senza la definizione Dei livelli Essenziali Di prestazione I LEP I famosi LEP Non è realizzabile Ma non basta Definire i LEP Cioè questi livelli Serve stanziare Le risorse Affinché questi livelli Possano essere garantiti E in questa bozza di calderoli Risorse stanziate Non ce ne sono Quindi ci auguriamo Che possano trovare Queste risorse Visto che in legge di bilancio Diciamo risorse ulteriori Non ne sono state trovate Temiamo che non ci siano risorse Punto secondo Quando noi Su alcune funzioni e competenze Come i trasporti Come la scuola Come la sanità Andiamo a dare Maggiore forza Alle regioni E' un'autonomia Lo dico per chi Non lo sapesse Lei ne parla Ragionveduta Essendo credo Un'insegnante Già stata sottosegretaria Alla pubblica istituzione Sì Sulla scuola Dare maggiore autonomia Quindi Regionalizzare Stipendi Programmi Organizzazioni scolastiche Significa Privare I cittadini italiani I nostri ragazzi Del medesimo diritto Allo studio Mi spiego meglio Il diploma Quindi il valore Di un diploma Dopo che noi Andiamo a regionalizzare A fare sistemi Scolastici Differenti Avrebbe un valore Da regione a regione Diverso Questo è molto grave E inoltre Penso per esempio Ai trasporti Andare a regionalizzare L'autonomia Rispetto All'organizzazione Di trasporti Sarebbe un danno Incredibile Per il nostro sistema Paese Così come l'energia E mi spiego meglio Rispetto Ad un'altra Grave Situazione Che si andrebbe a creare Con l'autonomia Anche a livello Anche a livello economico Per quanto riguarda Le aziende Avere a che fare Con sistemi Differenti In tutte le regioni Anche rapportandosi A scuole A ospedali Con sistemi diversi Questo creerebbe Un problema E guardi Che per quanto riguarda Questa volontà Di autonomia Noi abbiamo Un esempio Recente Di come l'autonomia Possa rischiare Di creare sistemi Diversi Cittadini Di serie A E di serie B Durante il covid Se vi ricordate Alle regioni Ai presidenti di regione È stato dato Una grande conflittualità Tra le regioni E' stato dato Più potere Anche per quanto riguarda Le scuole Si ricorda Scuole aperte Scuole chiuse Noi ad oggi Ancora Paghiamo il prezzo Di quelle regioni Che hanno deciso Di tenere le scuole Più chiuse Rispetto All'indicazione Nazionale Del ministro Di allora Che era quella Di tenerle aperte E abbiamo Una povertà educativa Che è aumentata Proprio perché In quel specifico momento È stata data Più autonomia Alle regioni E questo Ha creato Una disparità Quindi abbiamo Un esempio pratico E quando Tosi Parla degli Stati Uniti Come esempio virtuoso Storicamente L'esempio Non tiene Perché lì Al contrario L'autonomia Stati forti Autonomi Hanno deciso Di mettersi insieme Qui al contrario Uno Stato unitario Che invece decide Di dividersi Quindi storicamente Non c'entrano nulla Gli Stati Uniti Ma dividersi È una parola Un po' grossa Posso No Faccio un'ultima notazione Che non vuole essere Polemica Tutto legittimo Quello che le ha detto Perché voi siete Un partito del sud Soprattutto O no No Assolutamente no Perché ci sono misure Del nostro momento Al governo Come transizione 4.0 Che invece Sono state Accolte E sono misure Che hanno Agevolato La maggior parte Delle aziende Che si trovano Al nord C'è questa narrazione Di un partito Del sud Ma guardi Che le autonomie Lo sa che è l'equazione Rendito di cittadinanza No perché con quello Spesso Per quello spesso Siete No guardi No guardi No noi siamo Non solo Il partito del reddito No guardi Non siamo Non solo il partito Del reddito Siamo anche Del super bonus Che ha creato 700.000 posti di lavoro Di transizione 4.0 Di decontribuzione Insomma Una serie di misure Quindi Le rivendica No le rivendico Sì perché C'è un disegno Più grande Del movimento E moltissime misure Sono invece State Diciamo Misure rivolte Al nostro elettorato Del nord Allora Fatemi spostare Un attimo Così torno Dalla professoressa Quacquarelli Il discorso Poi si incrocia Nei tanti discorsi Che facciamo Tutti i giorni Sui laureati Professoressa Perché C'è sempre il problema Domanda Offerta Questo incrocio Come lo chiamano Mismatch Ecco Diciamo L'incrocio Tra domanda e offerta Che riguarda Ancora di più Forse i laureati E noi Rispetto ai laureati Non abbiamo Come dire Nella classifica europea Una posizione Molto invidiabile Vediamo Economisti Ingegneri Personale medico Sanitario Matematici Ma anche Filosofi Lo scorso anno È cresciuta La domanda Di laureati Da parte Delle imprese Ma i datori Di lavoro Secondo i dati Di Union Camere E Ampal In quasi Un caso Su due Hanno avuto Particolari Difficoltà A reperire Le professionalità Di cui hanno bisogno E i posti Rimangono vuoti Per mesi Ma innanzitutto L'Italia Ha una bassa percentuale Di laureati Rispetto alla popolazione Poi c'è un problema Di orientamento Un orientamento Ben fatto Vuol dire Un orientamento Che comincia Già le scuole medie Inferiori C'è un terzo problema Che riguarda La demografia Ci sono sempre Meno ragazzi In Italia E infine Aggiungere un ultimo Elemento Una quota percentuale Dei laureati Specialmente Nelle materie STEM Vanno all'estero Per trovare poi Un'occupazione Adeguata E rispondente Alla carriera Accademica Universitaria Che hanno fatto Io sapevo Che l'ingegneria Dava dei buoni Sbocchi lavorativi Ma ho seguito Le mie passioni Ovviamente Ha aiutato Il fatto che Ho avuto Dei buoni insegnanti Di matematica E fisica Al liceo Senza di loro Probabilmente La mia scelta Sarebbe stata Un pochino più in dubbio Abbiamo avuto Orientamento Però la scelta È venuta dopo Non è stata In base all'orientamento Diciamo Purtroppo non è possibile Fare una cosa Che non piace Quindi In Italia Solo il 28% Dei giovani Tra i 25 e 34 anni È in possesso Di una laurea Abbiamo ovviamente Un percorso Da migliorare Però certamente Non possiamo Regalare le lauree Ai ragazzi Che non abbiano Una preparazione adeguata È vero Che c'è un problema In parte È legato Dal fatto Che i ragazzi Non riescono A seguire con attenzione Tutto il percorso Di laurea E su questo Stiamo lavorando molto Come sistema universitario Siamo fanalino di coda Nella percentuale Di giovani laureati Rispetto al resto d'Europa Peggio di noi Solo la Romania Beh in parte Perché i ragazzi italiani Non hanno compreso L'importanza della laurea In parte perché Il mondo delle imprese Spesso non ha Gratificato Come giusto che sia Come noi vorremmo Nell'interesse I nostri laureati Il valore della laurea Oggi la laurea È un po' come era Vent'anni fa Il diploma E non è così Un laureato va Remunerato correttamente Se i nostri laureati Trovano O i nostri dottori Di ricerca Trovano posizioni Anche apicali Negli Stati Uniti Non è che L'impresa italiana Non le trova Che probabilmente L'università italiana Il mondo pubblico italiano E le imprese italiane Non li pagano Quanto loro Voglrebbero essere pagati E laddove li pagano meglio Vanno a lavorare Allora Barbara Quacquarelli Il problema È come vengono pagati Remunerati Adesso al di là Del problema Che ne abbiamo Pochi dei laureati Rispetto ad altri paesi Però la vera leva Quello che potrebbe ingolosire È un paese Dove il privato Ma anche il pubblico Prima lei lo accennava Riguardo a pubblica amministrazione Cominciano a capire Che o si pagano Per le competenze Che hanno Questi ragazzi Questi giovani E poi man mano Anche crescono Oppure dobbiamo rassegnarci L'idea Che vadano a lavorare fuori È così Nel senso che Il vero problema È che Non si dà un valore Aggiunto alla laurea Nel senso L'incentivo In termini di stipendi Per i ragazzi A laurearsi Rispetto a quello Che le aziende italiane Gli offrono Come primo impiego Non incentiva Particolarmente Nel senso che Non guadagnano Poi tanto di più Di un diplomato E quindi Questo Porta In realtà A un disincentivo Perché questo succede Fondamentalmente È chiaro che È un discorso complesso Chiaramente Il primo problema È la dimensione media Delle aziende italiane Nelle Avendo aziende Un'economia Basata sulle piccole Medie dimensioni Piccole le PMI Famose Spazio Per avere Dei laureati Competenti E farli crescere Spesso Non c'è Non viene interpretato Però mi scusi Questo può essere Un errore Che facciamo Anche noi Che facciamo Questo mestiere Perché una piccola O piccolissima Impresa Non dovrebbe Aver bisogno Di laureati Andiamo verso La digitalizzazione L'industria Addirittura 5.0 Perché Non dovrebbe Avere bisogno Di laureati Ne ha senz'altro Ne ha bisogno Ma non è disponibile A pagarli Di più Quanto dovrebbe Pagarli Perché Non avendo Un'azienda Più piccola Ha meno Funzioni aziendali Meno ruoli E su quei pochi ruoli Se non hai esperienza L'imprenditore L'imprenditore Ha meno Disponibilità A investire Su qualcuno Però ci vuole Una visione Perché è un po' Un circolo Vizioso Se io non assumo Quelle competenze Non riesco Ad affrontare Le sfide Della digitalizzazione Della competitività Internazionale E quindi Mi mantengo Sull'investimento Sulle risorse umane E poi Però Faccio fatica A competere Con altri sistemi Paese Che hanno chiaramente Delle strutture Aziendali Diverse dalle nostre Che invece Assorbono E sono disponibili A pagare Va anche detto Che c'è una polarizzazione Del mercato del lavoro Voi nel vostro servizio Avete parlato molto Degli ingegneri Per esempio Faccio un esempio Adesso in questo momento In Italia E caccia l'ingegnere Perché non se ne trovano Sono merce rara E sta succedendo anche Chiaramente Nelle aziende Di grandi dimensioni Un cortocircuito Che per riuscire In qualche modo A intercettare Quei giovani ingegneri E fare in modo Che non vadano all'estero Perché dopo di tutto Hanno un mercato Succede Che spesso Gli devi chiaramente Offrire uno stipendio Che è più alto Del middle management Al momento presente Nelle aziende E con esperienza E certo Poi torno da lei Con una domanda Mi è arrivato Paolo Sottocrona Paolo ti chiedo Grande sintesi È colpa mia Sono in grande ritardo Ma era molto interessante Questo ragionamento Su il lavoro L'ha arrivato Allora abbiamo Di significativo Ma vedrete molto poco Questa striscia di nuvole Che sta attraversando Il Mar Ligure Il Tireno settentrionale Qualche ora fa Era un po' più a nord Quindi si sposta Verso sud Ma non porta molto Infatti Se andiamo a vedere La previsione Per la giornata di oggi Troviamo qualche Debole possibile pioggia Fra Ligure di Levante È alta Toscana E queste in realtà Erano possibili Nelle prime ore Di questa mattina Dopodiché ormai Non c'è più nulla E quella linea Di nuvole Che si sposta Non porterà Piogge significative Neanche sulle zone Del centro In Sardegna Perché sono Qualche Debole piovigine Quindi capite Di cosa stiamo parlando Giovedì Domani Situazione Ancora Con qualche Debole pioggia Possibile Soltanto In Sicilia E se no Cielo sereno Poco nuvoloso E poi Venerdì Situazione Molto simile C'è il grigio Di qualche nuvola Ma di pioggia In questa fase Non se ne parla Le temperature Confermato Che Diciamo Che salgono Ancora un poco Questa settimana Ma la prossima Torneranno a scendere In maniera Abbastanza Sensibile Quindi proseguono I giorni della merla Spostati Sul calendario Siamo la candelora Grazie Subito in pubblicità Ci vediamo tra poco Allora Professoressa Quarelli Un'altra domanda Ma noi leggiamo Tutti i giorni Che ci sono aziende Che cercano Una marea Di figure professionali Da chi sa lavorare Al tornio All'ingegnere Specializzato E via dicendo Ma perché Non si riescono A incrociare Quello che le aziende Cercano E le persone Che cercano Un lavoro Perché abbiamo Un sistema Che ha formato Delle competenze Che non sono quelle Del salto Tecnologico E produttivo Che stanno facendo Le aziende In linea Con tutto il resto Del mondo occidentale In mezzo Manca qualcosa Evidentemente Questo qualcosa Si chiama formazione Abbiamo due elementi Uno Ci mancano I numeri Noi ricordiamoci Che adesso Stiamo Vado a memoria Con la metà Della forza lavoro Che avevamo Vent'anni fa Sì E quindi Peggiorerà Quindi è chiaro Che tutti cercano Su numeri Sempre più piccoli In questi numeri Sempre più piccoli Che tipo di persone Abbiamo preparato Fin qua Abbiamo preparato Anche nel confronto Internazionale Persone Con un livello Di preparazione O non hanno La laurea Perché sono meno Laureati Degli altri paesi O hanno delle lauree In ambito Umanistico Più che in altri paesi Nel nostro Per tradizione Cultura In questo momento Ci servono Persone Sia a livello Diplomati Sia specializzati Sia laureati Nelle cosiddette materie STEM Ovvero materie Di stampo scientifico Economico In mezzo Cosa manca Una struttura formativa Che prepari Le persone Rispetto ai profili Il problema Però Della formazione Che non è Un strumento Di breve periodo Ci vuole tempo Ci vuole tempo La formazione Richiede Apprendere Delle nuove competenze Delle conoscenze E quindi Io non decido Oggi per domani Che mi si libera Un posto E improvvisamente Chiedo Tutto il sistema Pubblico Ma è anche cambiato Lo dico adesso Lo chiedo E anche è cambiato Dopo il Covid L'atteggiamento Nei confronti del lavoro Di quella che si chiama Conciliazione Tra la vita E il lavoro Un milione Seicentomila persone Mi pare Hanno dato le dimissioni No? Lo chiedo Cioè C'è anche questo Oltre al reddito Di cittadinanza A cui Diciamo Molti Imputano La grande responsabilità Adesso sentiamo La senatrice Che pensi Roberto? Penso Intanto penso E lo vedo Tutti i giorni Che L'atteggiamento Verso La dimensione Lavoro Della Mia E tua La nostra generazione Non è lo stesso Atteggiamento Che hanno Le persone Che adesso Hanno 25 30 anni Cioè La nostra generazione È cresciuta Con una idea Del lavoro Come A parte le questioni Personali Di famiglia I sentimenti Ma che Il lavoro È Il luogo Fisico E non In cui Si Vede La realizzazione Di quello Che sei Nella vita Sì Questo L'ha pensato La nostra Generazione Non lo pensano I ragazzi Che hanno 25 30 anni Non lo so Questo non lo so Nemmeno io Se hanno ragione Ma credo Che dipenda Anche dal fatto Che però Le condizioni Stesse Del lavoro Sono Molto Cambiate E oggi Una serie Pressoché Infinita Di funzioni Non hanno Più bisogno Dell'apporto Umano Come era Una volta Conseguentemente Noi abbiamo ceduto Adesso non voglio fare Un discorso Troppo complesso O troppo banale A seconda di come lo si guardi Ma è evidente Che abbiamo ceduto Alle macchine Che ci assistono Una sega infinita Di funzioni La componente Residuale È per alcuni Di grande soddisfazione Ma per molti altri Molto meno Allora Ce lo dobbiamo porre I più illuminati Ci stanno dicendo Che andiamo verso Un mondo Quasi senza lavoro L'intelligenza Artificiale Sostituisce Già adesso In qualche modo Il reddito di cittadinanza Faccio un salto E poi mi taccio Contiene un elemento Che ci deve fare Riflettere Cioè Un reddito Associato All'essere cittadino Questo meccanismo Se Secondo me Che non sono Un patito Di dare dei soldi A uno per stare Seduto sul divano Sia chiaro Sì Però ci interroga Su quello che sarà Il mondo del 2080 E ci dice Ma qualcuno Come tu sei L'ha già prefigurato Stiamo a casa Con un sussidio di Stato Compriamo su internet Quello che ci serve Questa però Dico qualcuno In senso negativo L'ha descritto così Però Diciamo Sembra un paradosso Ma non siamo Molto lontani Da quello che potrebbe Succedere Insomma Dobbiamo rifletterci Sopra Tosi Il reddice italianza Medici di base E lo Stato Sti conti qua Li poteva fare banalmente Perché sai Quanto personale In servizio Non dico di aumentarlo Ma basta che pensi Al mantenimento Sai quanto va in pensione Quanti ai me decedono Da quanti ne partono Questi numeri Non c'è dubbio E questo gestito A livello centrale È stato un disastro Perché adesso Ci vorranno anni Posso fare una postilla Chi però oggi Studia E pensa magari Di approdare In un pronto soccorso Con quello che si vede Nei pronto soccorso Dice Mi dovete pagare Bene Noi siamo Il sistema sanitario Meno costoso Del mondo occidentale Il 7% del PIL Gli altri spendono Il 9 Il 10 Qualcuno Il 14% Quindi sono sottopagati Ci ho premesso Passando alla reddice Cittadinanza C'è stato un servizio Su un emittente televisione Non so se eravate voi Ma probabilmente sì Che parlava di questo Ristoratore Di Napoli Proprio sul lungomare È un posto meraviglioso E paga anche bene Perché i bar e i ristoranti Di un certo livello Pagano bene Pagano bene E non trovava personale Ha provato a fare 15 colloqui Non si è presentato Anzi se ne è presentato Uno in ritardo Per dirgli non vengo Ecco Il reddice di Cittadinanza In alcune regioni Ha creato Delle distorsioni Terribili Perché In alcune regioni Segnatamente La Campania E la Sicilia Che sono quelle Che hanno percepito di più Nello stesso nucleo familiare Ti arrivano Spesse volte Due redditi Di Cittadinanza E a quel punto Uno conviene stare a casa E non andare a lavorare E ha portato a questo Attenzione che così Perché parlo di Lavello Di lavoro lavorativo Di barista Cameriere Dove non è che serva La laurea Serve la buona volontà E lo spirito Di adattarsi Senatrice Senatrice Allora Superando Sorride la senatrice Ma adesso con le parole Sarà affilata Io immagino Superando questa narrazione Ormai populista Sentita e risentita Lo hanno cancellato Il reddito Quindi non c'è più Bene Vedremo in che misura E in che modo Questi occupabili Adesso che non possono stare più Come narrano Come narra la destra Sul divano Se troveranno posto E se finalmente I ristoratori Troveranno Chi andrà a lavorare Da loro Staremo a vedere Intanto ad oggi Che dovevano partire Questi corsi Di formazione Non sappiamo nulla Non ce n'è neanche l'ombra Detto questo Invece facciamo Un discorso serio Dentro il quale Si stava Diciamo Inserendo anche Una misura Come il reddito Di cittadinanza Il lavoro È cambiato Il mercato Del lavoro Sta cambiando In questa fase Di transizione Prescindendo dalla volontà Di chi vuole lavorare Non ci sono competenze A volte Corrispondenti Alla necessità Di chi Cerca lavoratori E anche Il concetto Di lavoro È cambiato Per noi Parlo anche Della mia generazione Era un fine Adesso È uno strumento E non importa A volte Il modo Il luogo Il tempo Del lavoro Ma serve Soltanto Per la realizzazione Di me C'è della persona Quindi se noi Politicamente Non facciamo Questo salto Di qualità Nel comprendere Che è cambiato Proprio il sistema E quindi A livello normativo Dobbiamo assicurare Che in questa fase Di cambiamento E di formazione E di formazione Verso nuovi lavori Per questo Noi nel PNRR Abbiamo voluto Quasi 30 miliardi Per la formazione Tra scuole Università E molti soldi Per l'orientamento E per l'incremento Dell'orientamento Sugli stem Sulle stem Quindi su queste materie scientifiche Perché siamo consapevoli Di quello che sta accadendo In Italia E non soltanto Quello che mi dispiace E concludo È che questa destra Che nel passato Ha tagliato Alla sanità Ricordo Nel 2009 Solo 9 miliardi Alla scuola Per non parlare Di quanto ha tagliato All'università Il fondo sanitario nazionale Non è mai stato ridotto Da vent'anni A questa parte Mai Mai ridotto Da nessun governo Allora Parliamo dell'università E della scuola Avete tagliato Miliardi e miliardi E miliardi Ora ci vuole Del tempo Per poter Sì 2009 10 miliardi Mi contesti Che non è vero Non sono stati Tagliati 10 miliardi Voi avevate promesso Di mettere Delle cifre Che non stavano Ne c'erano Ne in terra E qualcuno Ha riportato I piedi Nel 2009 Noi non c'eravamo E voi avete tagliato 10 miliardi Con la gente Parlo della sinistra E qualcuno Ha riportato I piedi Perché voglio chiedere Una cosa Alla professoressa Quacquarelli Un po' delicata Ma non solo La politica La politica I mezzi di informazione Cioè Ma abbiamo La consapevolezza Di questi cambiamenti E quindi poi La politica O chi fa le leggi Di rispondere A questi cambiamenti Con degli strumenti Utili In qualche modo Cioè C'è Perché se ne parla Molto Ma poi Nel pratico Non si vede Una reazione Rispetto a quello Al cambiamento Epocale A cui stiamo assistendo No Si fa un po' Di chiacchiere sociologiche Però Non arrivano Delle idee E dei progetti E quando parlo di questo Dico Che se abbiamo Un problema di formazione C'è Una responsabilità Un impegno Da parte del pubblico Però mi chiedo Anche dove sono i privati Perché se la formazione Costa Piace o non Piace Soprattutto se è fatta bene Va Intesa come un investimento E se è un investimento Su una risorsa scarsa Vuol dire che Tutti gli attori Di questo sistema Sia pubblici Sia privati Ovvero le aziende La devono vivere Non qualcosa Che deve fare Qualcun altro Ma Bisogna collaborare Perché Sia per le risorse Economiche del paese Sia per la situazione In cui siamo Evidentemente Non può essere tutto Incremento di spesa pubblica Allora su questo Poco Ho visto Nascere qualcosa Il progetto Sui famosi Istituti tecnici Che dovrebbero In qualche modo Dare una linfa Rispetto a Soprattutto alcune Figure Che mancano E che in altri paesi Ci sono Si è citata la Germania E in cui Anche qui Però Si è perso Un po' il focus Ma soprattutto Non mi sembra Che sia entrato Da nessuna parte Una vera agenda Del lavoro Rispetto a come Di qui A N anni Riusciamo a risolvere Questo problema Che ha due Spaccettature Anche il Riskilling Scusatemi La parola tecnica Ovvero sia Noi dobbiamo Pensare A chi adesso Ha 50 anni E lavorerà Circa A riformarlo Diciamo Cosa fa per i prossimi 17 18 anni Fino all'età Nella pensione Con le competenze Che servivano Nel secolo scorso Bella domanda Allora Roberto Chiudiamo Non so se vuoi dire Una cosa su questo Io poi penso sempre All'intelligenza artificiale Che comincia Come dire A insidiare Molti Lavori Molte professioni Credo che in America C'è stato Un robot Che ha fatto D'avvocato Difensore Cioè Voglio dire L'intelligenza artificiale Scrive articoli E oggi Magari ancora In maniera rudimentale Ma riscrive Neanche troppo rudimentale Poi più la istruisci L'intelligenza artificiale Il miglior risultato Da Non so se volevi dire Su quella cosa Su questo Ti faccio l'ultima domanda L'ultima domanda È questa Quindi torno al tema Con cui abbiamo aperto Donzelli e Del Mastro Devono fare un passo indietro Sarà qualcuno di loro Obbligato a fare un passo indietro O secondo te No Come finisce Questa storia Guardo Alla vicenda Sul piano politico Se la maggioranza Ha due mesi E me Tre mesi Dall'insediamento Del governo Comincia Tra l'altro Su uno dei temi Qualificanti Del programma Di governo La giustizia Comincia a prendere Alcuni dei suoi esponenti Politicamente più significativi E gli fa fare Dei passi indietro Possono direttamente Prendere i progetti Di riforma In materia di giustizia Chiuderli in cassaforte E abbandonare la partita Per questa legislatura Grazie Mirta Ciao Buongiorno Buongiorno Andrea Beh insomma Mi pare che Mi verrebbe da dire Anche il PD Nel suo piccolo Si incazza Perché proprio Mi sembra che L'atmosfera è caldissima Sempre più calda Si chiedono Le dimissioni di Donzelli Le dimissioni di Del Mastro Calenda Chiede che Del Mastro Si rimetta Non può restare al DAP Alessandra Moretti Dice che Donzelli È un'alfabeta istituzionale Insomma Davvero la polemica politica Oggi è durissima Noi saremmo collegati Col palazzo Ci collegheremo anche Con Del Mastro Verrà il studio Lirio Abate Perché ricordiamoci Che Donzelli Cita ieri In Parlamento Un pezzo di Repubblica Che racconta Il colloquio Tra Cospito E i boss Mafiosi E questo pezzo Lo scrive Lirio Abate Che ci spiegherà Cosa è accaduto E cosa Come sono arrivate Queste informazioni Con noi Tommaso Cerno Mollicone Mule Moretti Molti collegamenti Arriva anche Alberto Contri Perché anche lui È tra i fieri Diciamo Oppositori Di Zaleschi Al palazzo di San Riva Perché anche molto Di quello Si parla In queste ore Addirittura Adesso ci sarà Un giudizio Su questi due minuti Di video Il direttore Il direttore Coletta Deciderà Se sono in linea Col festival O meno Grande questione Poi torniamo a parlare Del lavoro Del lavoro che c'è Del lavoro che non c'è Dei percettori di reddito Siamo fatto due Due telecamere Nascoste Siamo stati con Ristoratori A fare i colloqui Alle persone Che vanno Che rispondono Alle offerte di lavoro Ma anche con i percettori Di reddito Che entrano al centro Per l'impiego E ahimè La situazione Non è granchere Da una parte Né dall'altra Con noi De Magistris Maiorino Snato Carriera Dragoni Insomma Vi aspetto Fra pochissimo Grazie Grazie Io ringrazio Barbara Quacquarelli Grazie Roberto Alditti Grazie alla senatrice Floridia Grazie Allora Ci vediamo domani Stesso luogo Stessa ora Adesso c'è La reghettira Grazie a tutti